Ma insieme pure te? Una braccia, una braccia fatta con i giorni, o con le posti. Dobbiamo fare una braccia nera, perché è una bambina, perciò di giro, come previsto, bisogna usare coscia in mano, sia la mani sopra, che c'è una pressione, un'idea stanza, che è... ... No, vabbè, ma tanto...